Ravenna, Livorno, Ancona, le città inserite nell'elenco dei porti sicuri a cui potrebbero aggiungersi Genova e La Spezia, si allarga il ventaglio di approdo per le navi delle ONG cariche di migranti per decongestionare i porti siciliani del sud in generale, già sovraccaricati da migliaia di arrivi. Nel 2022 ne sono approdati più di 100.000 e questo inizio d'anno fa segnare un nuovo record, 2.556. La strategia del ministro Matteo Piantedosi è quella di offrire porti sicuri e non più vicini allo scopo di assicurare la migliore assistenza alle persone dopo lo sbarco. Quelli siciliani e calabresi sono al collasso e il termometro della situazione è sempre l'hotspot di Lampedusa che per l'ennesima volta supera il limite consentito con oltre 800 migranti. Un'emergenza aumentata dagli ultimi naufragi nel canale di Sicilia, che ha richiesto un vertice del Comitato Provinciale per l'Odine e la Sicurezza Pubblica che si terrà proprio oggi ad Agrigento presieduto dal ministro. Alcune centinaia i migranti trasferiti dalle ONG ad Ancona, Ravenna e Livorno. Una rotazione nel rispetto della distribuzione equa dei nuovi arrivi ma che sta sollevando anche polemiche. Da un lato le ONG che denunciano maggiori costi, una sofferenza prolungata per i migranti, dall'altro il sospetto che siano state scelte finora solo città amministrate da giunte di centrosinistra. Un dubbio sollevato dai sindaci di Livorno e Ravenna che si augurano si tratti solo di una coincidenza.